Il progetto Città Valfino è partito già da un anno, supportato dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale, ma anche da quel decreto Barcha che individua nelle aree interne e soprattutto in queste sei città che abbiamo messo insieme, un ruolo determinante. Anche il Masterplan ha trovato spazio nella Città Valfino con una dotazione di 8 milioni e mezzo per la ricostruzione di strade e il primo, il 2 luglio, faremo uno a due giorni in cui parleremo di tutte quelle attività, di quelle capacità attrattive che ha questo territorio per molti anni un po' abbandonato. Ci saranno poi tutta una serie di interventi anche di tipo ambientale, metteremo insieme i tre parchi che collegano in qualche maniera questo territorio, dal Gran Sasso a Monteleaga per Arsita, i Galanchi di Atria, il Parco Marino del Cerrano, poi ci saranno tutta una serie di degustazioni dei prodotti tipici locali e spiegheremo quella che è la funzione della città Valfino di quello che può avere e di far conoscere perché ha molto ma è poco conosciuto. Ormai io credo che c'è il dovere dei comuni, non solo piccoli, anche meglio grandi, di mettersi insieme. È normale che lo devono fare quelle piccole realtà di cui non si chiede assolutamente l'abbandono dell'attività amministrativa in loco, nessuno può mai pensare, deve immaginare che tutto questo sia togliere i comuni. Grazie. 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 Grazie.